Prima che cominci il video volevo ricordarvi che, anzi ricordarvi per l'annuncio che saremo al video game show di Milano l'11 e il 12 Non ci saremo la domenica, quindi niente, se volete venire ad incontrarci potete andare sulla pagina del video game show che si trova su Facebook E lì ci saranno tutte le info con tutti e anche gli altri ospiti Detto questo ragazzi lasciamo 5.000 like per un prossimo video, sarà un video epico e quindi smetto di parlare e vi lascio al video Bella! Bella e chi trafani siamo i Granas e siamo tornati qui con un nuovo video e oggi siamo con un video Particolare Videoso Perché? Perché c'è, siamo su una pagina Facebook, vi ricordate quando facemmo nel tempo addietro, molto tempo, proprio secoli fa Un video su commenti memorabili, poi quella pagina ho raggiunto un milione di follower e all'epoca ce n'avevano pochissimi, tipo 100.000, pochissimi poi In che vittura ci avevano commentato? Sì, infatti E niente, adesso oggi lo facciamo su un'altra pagina che seguiamo molto e che ci fa ridere un sacco che è Zio e Matitos Molti di voi la conosceranno per... Talvez sono Troy McClure Molti di voi la conosceranno perché è famosa e fa delle cose molto che fanno ridere, no sense praticamente Sì E in cosa consiste questa pagina? Praticamente sono così Loro fanno delle vignette Intanto, oh, Frax vuole essere schematizzato Loro fanno delle vignette e tu devi capire Allora, c'è Francesco Latino che vuole essere schematizzato Ovvero, significa questo Francesco Latino Come hai detto che ti chiami? Oi Non l'ho capito Francesco Totti Aspetta Ah, Latino Capito, Totti Quindi Oi No, vabbè Ma come cazzo? Latino No No Ho mostrato questa vignetta a delle persone che sono rimaste basite Boh, la gente è sorrana E ci sta la vignetta sull'est La gente non aveva ancora capita Tu l'ho capita Al lavoro ho fatto carriera Difatti sono a capo di un'azienda Hai capito? No, te giuro A capo e vai insieme a ti No, aspetta Ah, oddio perché l'azienda sta Oddio mio Oddio Errare è umano Perdonare è divino No Allora, aspetta Ci sta Errare significa È umano che ci sta L'Europa sulla mano Esatto Ma perché c'ha sedità a mano? Perdonare Significherebbe Perdonare nel senso di Perdonare Cioè come tu posso dire Non c'è un'altra cosa Perdonazione No, perdonare nel senso Eh, ma vuoi di che dà Eh, lo so Qua c'è la donazione Però il senso è perdonare Cioè nel senso Quando mi fai qualcosa è brutto Io ti perdono Ok E Eddie C'è sta Eddie Murphy che beve il vino Mentre viene donato L'ostello Giusto In quanti siete C'è nessuno Ma più che altro L'ostello ha messo la stella Col fiocchetto azzurro Che fa capire Che è una schiera Perché hai visto Quando mette No, ce n'era una Troppo figa Questa è troppo figa Vedi la bandiera inglese Ma se ingogli una passiva di ecstasy Dopo quanto Ti sale Oh mio Oh mio dio Oh mio dio L'ho messo pure la bandiera inglese Perché C'era una con la bandiera francese La vita loca Da bel di lero Che qua de puta Loga e avida Come primi abbiamo le tagliatelle con il ragù di capriolo Mamma mia Vabbè questa Eccolo Ma che è Fantagiro No Oddio Questa è benzina No no Io mi do fuoco Re Arciu Excalibur Excalibur L'ho detto prima Sui no Sui si È giusto Comunque devo dire Che all'inizio Io su questa pagina Non capivo neanche un Rebus Adesso che l'ho seguita Da tanto È come l'allenamento Regà Dopo che l'ho seguita Da tanto Riuscite a capirli 1,2,3,4,5,6,7,8 Nine Oh mio dio C'è pure Nina Mori C'è che sezionalizzarla Non so se è vero L'ha fatta fake Ti bastano porca troia No Ennio More icone Più icone Perché per chi non lo savesse Questo qui è Ennio Moricone Che ha vinto da poco l'oscar Ma sicuramente non saprete chi è Perché tutti vedono gli oscar ormai Vai a giocare a tombola English please Cioè l'ha unito in un modo Questa è poesia Secondo me Questa è poesia Vai a giocare a tombola English please Bean Go Cioè ha detto tre cose insieme Con Bean Go Ha detto bingo Mr. Bean Vai a giocare a tombola Cioè è un genio Cazzo Questo è Io conoscete Questo secondo me È il suo masterpiece Ah certo No quello di Ennio Moricone È il suo master one piece Ci mette quello di one piece No però Ennio Moricone È stato fantastico Occhio per occhio Dente per dente Mangiare Bero Vabbè questo è cattivo Però Cioè Qui prende Ah perché quello è qui Io non ne capisco Delle porte Allora Con grandissimo qui Ragazzi La finiamo qui Vediamo che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Per un prossimo episodio Che tanto è un continuo Aggiornamento Questa pagina Quindi possiamo fare anche Un episodio al giorno Ma non lo faremo Perché no Non potremo diventare Cipo Perciò Se vi è piaciuto Lasciamo 5.000 like E consigliateci Qui sotto Se volete vedere Un altro episodio Perciò Ragazzi Grazie a tutto Ci vediamo Nel prossimo video Bella Ah una cosa Ve voglio ricordare Che Ve voglio ricordare Che noi siamo Attestaremo al video game show Si Quindi Stateci insomma Su facebook C'è sta la pagina loro Dove ci stanno tutte le info E cercate video game show E ci sono Ah sarà a Milano Dall'11 al Al 13 Però noi non ci saremo La domenica Quindi saremo Venerdì e sabato E niente Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.